Michele Piolanti, Project Manager di Zeta Engineering, tra i partecipanti al FireEvac Tour qui a Bologna. Quali gli argomenti che ha trovato particolarmente interessanti? Cosa ha imparato? Allora, un approfondimento tecnico fondamentale, perché le normative purtroppo hanno un difetto, o forse un pregio, che è quello che evolvono. E l'aggiornamento è fondamentale. Siccome da poco abbiamo acquisito una commessa riguardo a un sistema di evacuazione per un'installazione industriale importante, ci serviva assolutamente un aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda, nella prima parte, le normative sui cavi, perché non sono così chiare e non sono così semplici da trovare. Quello che ho imparato è oggi quello che mi serviva, e cioè utilizzare il prodotto giusto per la tipologia di lavoro giusto. Quindi teoria e pratica. Teoria e pratica, fondamentale, sì, sempre. Quindi grazie, grazie.